Capitano Bisagio, ci sono due sparenze. C'è quello col Mima e potrebbe esserci anche la successiva, anche se ancora adesso nessuno spera di no. E' che ha fatto un gran gol. Però questo Genoa corre il Bisagio che tutti conosciamo. Sicuramente perché non lo so, anche io non mi ritrovo come un tempo, come adesso, non lo so, forse come passo, non sapevo dirti, però comunque dipende anche tanto dalle prestazioni e tutto. Sicuramente c'è da migliorare su quello dopo. Siamo convinti che dipende tutto dalle prestazioni collettive, ma qui c'era il lampione che illuminava tutto e oggi l'ho illuminato veramente con un gran gol. Perché quello è un gran gol che non l'abbiamo visto in Serie A. Lo usiamo qua con la primavera. Questo è veramente un gran gol. Però io voglio dare una carica particolare per Control 1000 e dopo se ci dovesse essere questo spareggio play-out. Per cui decidono queste partite, come le ha deciso anche a Napoli da questo punto di vista. Beh, adesso abbiamo, intanto dobbiamo sperare, vedendo il calendario dobbiamo sperare che il Milan non vinca domani con l'Inter, il derby, e andare a giocare tutto là. O al limite, prima abbiamo parlato anche con il direttore Spravati, ha detto che limite, limite, ci andiamo a giocare spare il giro con la testa giusta. E qui c'è, non vincite in caso, perché sembrate la prima squadra. Ah sì, non saprei risponderti a questa domanda. Ma no, è difficile da spiegare, perché voi avete fatto un grande primo tempo, un grande primo tempo secondo me. Il secondo siete rimasti un po' lì a guardare. Ah sì, il primo tempo bene anche perché abbiamo creato un po' di più, non dico che abbiamo fatto tanti tiri, però sicuramente anche come gioco abbiamo creato un po' di più. Poi al secondo tempo non dobbiamo concedere tutti i gol. Non possiamo, dobbiamo perdere tempo. Ormai si sa, quando stai vincendo e ti giochi il campionato, poco da fare. Ma la carica del capitano, dai fammelo sentire, di cosa vuoi fare nelle prossime due partite. La carica, la tua carica. Sicuramente da questa settimana dobbiamo andare a 2.000 allenamento, che è la prima cosa fondamentale. Poi dare a ognuno quello, tutto quello che abbiamo in campo col Milan perché è l'ultima possibilità, ecco. L'ultima dopo, insomma. E la speranza di recuperare qualche infortunato. Eh, anche. Quello sicuramente. Eh? Anche se quelli dietro mi sembra che si siano comportati bene. No, no, no. Capitana, passa a te il pallone tra i piedi. Dai, metti il ciao a tutti. Sempre. Grazie.